Sì, vi attraverso. Sì, dai, ti sto filmando. Siamo a Stefano che si sentono gli effetti speciali. Ciao, Ile! Ciao! Eccoci! Che cosa sei papà? Che è più alto là? I scarperi. Tre scarperi. Scarperi e tre cime. Qui in mezzo, là in mezzo alle nuvole piccoline. Torre e Toblin. I baranci questi. Quello dei toni. Ah, la prima. Dopo di là, quelle? Quei piccoli di valandro o questo qua in primo piano? Piccoli di valandro. E da te dico, questa è la croda rossa. Ah, Stefano, la croda rossa famosa! E la croda di becco. Quante volte hai fatto? Sgrana un po'. Un po' di tempo. Certo! Avv snoatze! Ho the first test. In sport. Come si fa un po' di tempo.